dare il segnale di avvio partiti in avanzaggio Rayo du Sol davanti a Pistillo, Spunagle, Hoover, Gettykei, Apocalittica e Trafful all'inizio della curva Rayo du Sol e Pistillo conducono davanti a Trafful, Hoover, Gettykei, Spunagle ed Apocalittica poco prima dell'ingresso indirittura in leggero vantaggio Pistillo davanti a Trafful, Rayo du Sol e Hoover, Gettykei i cavalli entrano indirittura con Pistillo in leggero vantaggio attaccato all'esterno da Trafful seguono Rayo du Sol, Hoover, Gettykei, Spunagle ed Apocalittica il leggero vantaggio a centropista Hoover, Gettykei davanti a Rayo du Sol, Trafful, Spunagle, Apocalittica e Pistillo è sempre in vantaggio Hoover, Gettykei davanti a Trafful, Rayo du Sol, Spunagle ed Apocalittica conduce Hoover, Gettykei davanti a Spunagle, Rayo du Sol si è ripetuto Hoover, Gettykei che ha vinto in maniera splendida sui 1200 metri e ora allungandosi è ripetuto tardivo forse ma incisivo il finale di Spunagle perché è un cavallo difficile a mettersi sulle gambe quando l'ho fatto è diventato davvero determinante